Allora quando mi sono trovato di fronte a questo ho detto i miei. Bene signori, se ci trovassimo, scusate, è difficile per me, sprego i giornalisti di non giocare sui miei congiuntivi, ma se ci trovassimo a decidere della libertà di un popolo, mediante un piccolo trucco, mediante un artificio incostituzionale, antidemocratico, come un canguro, io ci penserei.